Allora, consigliere Minniti, tanta la carne sul fuoco, ma andiamo per ordine. Interrogazione Consiglio Comunale, a che punto siamo? Niente, è stato convocato il Consiglio Comunale per giorno 30 alle ore 16. L'interrogazione non è stata messa all'ordine del giorno, come era prevedibile, visto che è considerato le lettere a firma del segretario e del Presidente del Consiglio, dove si parla di privacy su una interrogazione molto chiara e che rispecchia appieno il regolamento del Consiglio Comunale. L'articolo 47 parla chiaro. Non è stata messa, qui sto notando che se uno ci si riempie tanto, gli amministratori in generale, si si riempie tanto la bocca di trasparenza e poi quando dobbiamo dare veramente un segno di trasparenza nella pubblica amministrazione, nell'amministrare, nella regina dell'amministrare, vedo del resistente. Non riesco a capire, o meglio capisco, perché non viene portata all'ordine di un'interrogazione dove si dimostra la posizione dell'intero Consiglio Comunale sulla posizione tributaria e chi paga le tasse e chi non paga le tasse. Ho portato tutto a sua eccellenza il prefetto del Reggio Calabria e aspettiamo notizie. In tal senso c'è qualche novità che le risulta? Le novità ci sono, a breve ci saranno delle novità sicuramente. Io su questa vicenda andrò avanti sino in fondo. Ho chiesto anche un'attestazione all'Ufficio Tributi che mi attestano l'intero Consiglio Comunale e la posizione tributaria di ognuno di noi e quindi è il responsabile dell'Ufficio Tributi anche se mi ha risposto a quella richiesta che ho fatto dicendo che è a disposizione di andare a visionare. Io non devo andare a visionare, io voglio un'attestazione perché lei e la dottoressa Alessandra Sgarlata è la responsabile dell'Ufficio Tributi e è lei che mi deve attestare. Se tutto il Consiglio Comunale e tutte le amministrazioni sono a posto con la posizione tributaria. Così non è, altrimenti loro portavano l'interrogazione in Consiglio Comunale tranquillamente per discutere. Questo non portare l'interrogazione all'interno del Consiglio Comunale si evince che ci sono degli amministratori che non sono a posto a livello di pagamento dei tributi, delle tasse. Come questo non diciamolo fino a che non abbiamo le carte, perché il fatto di non dare non necessariamente, però questa è una sua affermazione. Io lo dico perché ho tutti i motivi per dirlo. Se ha le carte ce le dia. Per dirlo, no, le carte devono venire nella sede titolata per discutere. Come le regole ci sono e vanno rispettate. Le regole del Consiglio Comunale, quando un consigliere fa un'interrogazione, il Consiglio Comunale mi meraviglia un fatto che il Tremonti di Melito, che c'è, noi abbiamo un assessore che ha i tributi, che è da 10 anni, che fa l'assessore e quindi che sa vita, morte e miracoli di tutto il paese, perché uno che gestisce i tributi comunali per 10 anni sa tutto, non interviene su una vicenda così delicata, così spinosa, per dire che il sottoscritto dica delle corbellerie, dica delle scemenze. Quindi il tacere di questo, che poi tra l'altro è un soggetto che parla su tutto e su tutti, che conosce perfettamente la macchina amministrativa, che se ne dica è uno dei più attivi all'interno dell'amministrazione comunale, non a caso il sindaco l'ha premiato più volte, voglio dire, gli ha dato merito, che lui non parli, già questo la dice lunga, la dice lunga questo stato di cose. Il problema è che loro non vogliono venire in Consiglio Comunale a rispondere a queste interrogazioni in modo chiaro, nel rispetto della cittadinanza, perché ci sono, a mio modesto avviso, e fanno presupporre che queste mie cose hanno dei fondamenti, sono fondati, perché ci sono dei consiglieri comunali o degli assessori o chi che sia, che ora ci apprestiamo in campagna elettorale, e se emerge un fatto di questo denaro, è normale che una grande vergogna poi per andarsi a ricandidare e a chiedere un consenso quando uno... Su questo no, perché noi chiederemo a tutti i candidati per una forma di trasparenza la loro posizione nei confronti del Comune. Fino ad arrivare alle elezioni comuni. Comunque, visto che è aperto la questione elezioni, se vuole fare un'analisi di queste elezioni, qualche nome è uscito fuori, qualche altro si avvicina, stamattina si legge su tutta merito un volantino abbastanza comunque così, diciamo, stimolante, o comunque sia curioso, si stanno delineando alcune situazioni, alcune alleanze presunte più o meno? Sì, vabbè, che c'è un fermento politico che si sta iniziando, basta vedere le riunioni che si stanno susseguendo, a più non posso parlando come costume fare, ogni volta che si avvicina una campagna elettorale o ci apprestiamo a votare, si parla sempre del porto di Saline. Quindi, secondo lei, questi incontri fatti alla Marina sono degli incontri pre-elettorali? Ma sì, è campagna elettorale, ma è campagna elettorale, lo dico con dei dati oggettivi. Noi, il territorio melitese, fino a pochi mesi fa, nella precedente legislatura provinciale a Guida Morabito, avevamo persone che ricoprevano un ruolo importante all'interno della pubblica amministrazione, un vicepresidente, un consigliere provinciale, dove questi incontri andavano fatti, a mio modesto avviso, prima, voglio dire, perché si potevano risolvere problemi, si poteva comunicare alla cittadinanza e ai pescatori meledesi quello che si doveva fare, non andavano mai fatti. Si pensava a tutt'altro, si pensava a fare feste, festini, giochi di fuoco e quant'altro, perché alla fine di tutto quello che c'era in Edina una cosa era importante che si è parlato tanto, la piscina coperta che doveva sorgere nel nostro territorio e guarda caso in cinque anni non sono riusciti nemmeno a realizzarla. Qui si denota che c'è stato il fallimento di questi soggetti. Possiamo fare una battuta, sono promesse da marinaio? Sono promesse da marinaio? No, io non voglio essere corretto, dico queste cose perché voglio che non si prendano in giro i pescatori, perché tranne qualcuno che pensa che si deve aprire il porto per ormeggiare il motoscafo per passeggiare in estate non è che si interessano più di tanto del problema dei pescatori, non si sono interessati mai, perché il problema è che uno si interessa delle problematiche di chi lavora veramente. Si fanno in tempo non sospetti, non durante le campagne elettorali, è quando uno ha il potere per poter fare qualcosa. Oggi basta pensare a una cosa, che si fanno delle riunioni e non si invitano i soggetti titolati, come l'amministrazione provinciale, non era stata invitata e arriva il presidente Raffa in una riunione e gli dice pur non avendomi invitato io sono venuto qui perché sono sensibili. Gli ha fatto fare una pessima figura, ha fatto anche degli atti che ha dimostrato una grande sensibilità verso i pescatori meletresi, un protocollo d'intesa con l'università per acquistare un ponte, un pilone che aspira la sabbia per fare l'orario, ha fatto degli atti concreti che gli altri in precedenza avendo il potere, ripeto, per poterlo fare hanno fatto degli interventi tampone buttando sorda al mare perché dopo 15-20 giorni era sempre chiuso il barco. Da qui si denota che questi sono soggetti politici che non possono amministrare la cosa pubblica perché sono degli incapaci. Torniamo però a quelle che sono le eminenti elezioni, quindi qualche nome sta uscendo fuori, Enzo Russo, lo scontato Gesualdo Costantino, poi si parla di Aurelio Monti che probabilmente si presenterà con la sua lista, non si capisce bene cosa andrà a fare l'ingegnere Peppe Meduri, insomma le carte in questo momento sono un po' mischiate e non si capisce anche bene la posizione di Totò Minniti che adesso ce la dirà. Facciamo un approfondimento su questo. Niente, io per l'esperienza... Intanto cosa farà Totò Minniti? Totò Minniti lavorerà per un progetto politico e sta lavorando già in discontinuità con l'attuale amministrazione comunale. Su questo non ci piove, voglio dire, ed è naturale il mio percorso anche per tutto quello che ho fatto sino ad oggi. Fare il contrario sarebbe veramente una perdita della mia linearità e correttezza nei confronti dei cittadini melidesi che per tre volte consecutivi mi hanno dato sempre un consenso e un rispetto. Io, come no da tutti, faccio una politica che la politica la intendo come un servizio verso la cittadinanza. Non darei candidature scontate, chi è scontato, chi non è scontato. Nella politica mai dire mai. Non ci sono... È vero, ci sono progetti. So che il giorno 3 dicembre sarà rappresentato un movimento politico dove ci sarà un gruppo dove ci sarà anche il dottor Enzo Russo che sicuramente si presenterà alla cittadinanza. È un momento importante. È un momento dove si vuol cercare di cambiare qualcosa. La gente deve capire che bisogna lavorare per cambiare questo territorio e quindi se si vuole cambiare questo territorio è naturale che si deve lavorare in alternativa. È inutile parlare di personaggi che ormai conosciamo hanno già praticato ruoli sovracomunali hanno dimostrato l'incapacità. È inutile ripetermi sulle stesse cose. Questo territorio non ha avuto niente... Quello che ha avuto ha dimostrato anche quello che hanno fatto. Non è soltanto spendere dei soldi sul territorio e spendere soldi ma spendere il bene per avere, voglio dire, apportare delle migliorie. Noi diciamo che manca la programmazione ma non solo noi. La programmazione non c'è stata mai. C'è stata sempre l'improvvisazione. È soltanto quando c'erano dei soldi era spendere soldi. Basta guardare delle opere e gli obrobbi che sono stati fatti. Come ripeto, l'ho detto più volte, il corso caribale della via nazionale sono, voglio dire... Andrebbero ripensate tutte e due le strutture nel loro utilizzo, secondo lei? In porto il nostro progetto la prima cosa che andremo a fare sicuramente è sistemare il corso caribale e sistemare la via nazionale. Sono opere fondamentali che noi andiamo sicuramente a ritoccare, voglio dire, in maniera proprio perché questi inginocchiano il paese. La gente deve venire... Dobbiamo cercare, visto la sfiducia che c'è proprio nelle istituzioni, è che usando questi comportamenti, questi atteggiamenti, in non dire quali amministratori sono a posto con le tasse comunali, questo significa proprio allontanare totalmente la gente. C'è uno, dovevano essere loro, consigliere comunale, a venire in consiglio comunale con le ricevute delle tasse pagate. E sputtanare totò minniti. E sputtanare totò minniti in consiglio comunale. Non farlo significa che ci sono persone che non pagano e questa è gente che non merita di essere votata ad amministrare la cosa pubblica. se loro non pagano le tasse, come possono amministrare gli altri? Un'ultima cosa. Questa mattina c'è stata una manifestazione a favore dei trasporti o comunque a sostegno di quella che è una paventata, non una paventata, ormai è una cosa sicura, la soppressione di moltissimi treni per la Calabria. Vi è stata una scarsa partecipazione di pubblico ma anche di istituzioni, voglio dire, solo tre sindaci erano presenti. Quindi, secondo lei, anche questo non sentire come propri problemi da parte della gente abbiamo visto come è finita con l'ospedale, abbiamo visto tante altre situazioni. non può essere lo specchio di quello che lei fino a poco fa ha detto, nel senso che già si parte dall'amministrazione comunale che se non riesce ad esprimere il meglio poi chiaramente la gente è disillusa e anche su temi forti come può essere la sanità e i trasporti se ne frega. Questo è sintomatico questo tipo di scuola. La gente non partecipa perché è disaffezionata, non ha più fiducia nell'istituzione. Ma chi non ha portato questo stato di cosa? L'ha portato chi ha amministrato questo territorio per tanti anni e ha fatto sempre promesse non si è mai vissuto sviluppo su questo territorio perché ha ammillantato sempre, ha preso sempre in giro e ripeto ogni volta che ci sono campagne elettorali si fa sempre la stessa strategia. Tornata a campagna la strategia di Dottor Minniti qualora dovesse essere candidato in qualche lista cosa farebbe per il territorio e per la gente? La strategia di Dottor Minniti è sempre la stessa quella di 15 anni a questa parte all'interno della pubblicità spendersi per la gente sempre e l'ha dimostrato spendersi per nulla tra l'altro in modo Dottor Minniti ha una passione per fare politica l'ha dimostrato con i fatti non è che fa politica facendo compromessi o cercando di barattare qualcosa ad uso personale o per la propria famiglia questo non esiste Dottor Minniti fa politica per cercare di interessarsi per le capacità che ha che le mette in campo a disposizione della collettività è sempre disponibile a confortarmi come mi confronto tutti i giorni con tutti i cittadini melitesi a dire le cose e parlare con la verità parlare con la verità perché la verità alla lunga poi paga uno quando in politica è come nella vita quando uno dice bugie prima o poi sono boomerang ritorno indietro quindi mi spenderò a far sì in un progetto pulito dove posso dare un supporto per apportare delle miglierie al territorio per mettere le esperienze che ho acquistato in questi 15 anni di pubblica amministrazione certamente non faccio furberie o furbizie che qualcuno fa per andare a prendere in giro per andare a prendere in giro i pescatori che l'uno 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 e l'altro a descapoto a descapoto delle cittadine soltanto per acquisire poltrone o fare quant'altro non è il mio stile di fare politica e l'ho ampiamente dimostrato il discorso della non partecipazione a una protesta anche simbolica dove il sindaco almeno ha avuto la sensibilità di aderire a questa protesta di tagli che siamo isolati come territorio in special modo la ionica voglio dire che sono stati tagliati non soltanto voglio dire i treni parliamo anche di aerei e di tutto c'è un disagio anche giudice di paese ci stanno espropriando di tutto quindi togliendo tutti i servizi essenziali a breve anche l'apertura andrà via quindi togliendo quei servizi il paese viene svuotato di tutto basta pensare che non siamo nemmeno uniti e qui la dice lunga sul discorso scuola sul discorso non siamo nemmeno uniti questo è un capitolo che approfondiremo in questi giorni hanno fatto una pessima figura l'associazione dei sindaci andare con più proposte con più proposte che poi alla fine ognuno prodomo suo ma alla fine sappiamo tutto che è un discorso soltanto economico e di potere abbiamo lanciato la pietra poi la approfondiremo in questi giorni perché è un tema che ci interessa in maniera particolare sul ridimensionamento scolastico sugli istituti comprensivi eccetera quindi su questo non entriamo in merito ecco chiudiamo qua questa intervista dicendo ecco la campagna elettorale secondo noi su merito è iniziata ringraziamo come al solito il consigliere Totò Beniti grazie grazie a voi vi ringrazio ancora una volta per l'opportunità che mi date sempre per poter comunicare con i cittadini e con il territorio